L'8 marzo, giornata internazionale della donna, celebrata in tutto il mondo, è anche un'occasione per mettere in luce e far conoscere ai giovani le figure di donne che hanno partecipato attivamente alla resistenza nel corso della seconda guerra mondiale e hanno quindi fatto la storia. Non soltanto in un ruolo di supporto, ma come vere protagoniste di strategie e azioni di guerra civile, un ruolo spesso non messo in rilevo dalla storiografia ufficiale e che merita quindi di essere oggi conosciuto e valorizzato. Testimone diretta di questa pagina di storia è la figura di Lidia Menapace, partigiana conosciuta con il nome di Battaglia di Bruna, che ha coltivato per tutta la vita i valori dell'antifascismo. Attivista partita dall'adesione ai gruppi cattolici alla democrazia cristiana per arrivare poi alla vicinanza con rifondazione comunista, partito con il quale è stata eletta senatrice nel 2006 e ancora insegnante, attivista per la parità dei diritti e pacifista. Una figura di donna di grande rilievo sulla quale il regista fiorentino Massimo Tarducci ha realizzato il film per Lidia Menapace, appunti per un viaggio da Bolzano. L'abbiamo conosciuta nel 2012, stavamo girando con Andrea Bigalli e quindi un lavoro tra l'altro su David Maria Turoldo e apparsa lei è stata fulminante e quindi per dieci anni non ci siamo persi. Quello che andremo a vedere è un excursus della sua vita, rivissuta in una cucina, in un mercato e poi abbiamo estrapolato altre immagini perché lei è deceduta nel 2020 quindi non avevamo più Lidia. Il lavoro è nato dopo il 2020 e quindi ci ha fatto piacere poter inserire lei. Lei dice una cosa molto forte nel documentario, cioè la lotta partigiana non avrebbe potuto esistere o essere la stessa senza il contributo delle donne. Sì, questa è una cosa che lei ripete molto spesso, è una sorta di mantra. In effetti è vero perché le donne si sono fatte in quattro in quel periodo e come dice lei nel lavoro che abbiamo registrato insieme, se non ci fossero state le donne, chi poteva dare rifugio e quindi ospitalità e quindi un piatto di minestra calda alle forze partigiane. Per cui era imprescindibile la figura della donna, è stata. E poi Lidia ha incarnato con lei che ha portato avanti i diritti per avere un riconoscimento a livello generale proprio della femminista, quindi della donna in sé come elemento importante della nostra vita. Quindi che messaggio può dare oggi agli adulti ma soprattutto ai giovani? La forza di Lidia è stata quella di lottare sempre e comunque per la dignità della donna perché ci fosse la pace intorno a noi e prevalesse un esempio di cultura anche laica, perché no? e perché i giovani adesso proietteremo anche il lavoro in una sezione appunto mattutina dedicata ai giovani e perché i giovani possano seguire gli esempi di questa donna che sono tanti e indimenticabili. Il documentario per Lidia Menapace appunto per un viaggio da Bolzano sarà presentato mercoledì 8 marzo allo spazio Alfieri di Firenze in un evento proposto da Lanterne Magiche il programma di educazione al linguaggio dell'immagine di Fondazione Sistema Toscana. La proiezione mattutina delle ore 10 è aperta alle scuole e al pubblico su prenotazione scrivendo a infochiocciolallanternemagiche.it Ad intervenire alla proiezione, introdotti dalla responsabile di Lanterne Magiche Sveva Fedeli saranno Ida Chianese, figlia di Elio Chianese, medaglia d'oro alla Resistenza Vania Bagni, presidente dell'Ampi Provinciale di Firenze Monica Ruc, dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana Francesco Palaia, storico e responsabile Spice GL Nazionale Andrea Bigalli, coautore del film e lo stesso regista Massimo Tarducci Che rapporto aveva o può avere, diciamo, idealmente con la Toscana? Dunque, lei si muoveva per tutta l'Italia, quindi con la Toscana lei in Toscana aveva tanti amici, tra l'altro questo lavoro il primo lavoro in video è nato proprio con la sponsorizzazione dello SPI CGL Toscana poi siamo passati al Nazionale per fare il lavoro che sta girando adesso però lei ha un rapporto splendido tra l'altro venne alla prima del lavoro a Firenze e fu circondata dall'affetto di tutti i compagni della CGL quindi sicuramente dove essa andava, dove ella andava raccoglieva quindi non poteva non essere anche con la Toscana questa è una spiegazione nobile, diciamo c'è una anche un pochino meno nobile ed è che io piuttosto che cedere a questi scemi ignoranti schiatto, ma resisto parla 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 Grazie.